Ciao da Trattoria Sportiva, scusate se non abbiamo fatto il post di Roma Genova, eravamo impegnati a Sanremo, al festival, invece oggi siamo qua a fare il post Genova Salernitana. Prima di incominciare però vi sono a chiedervi di cliccare sul ditino in su e di iscrivervi al nostro canale, servono le iscrizioni vostre per far continuare a far alzare di livello questo canale. Adesso andiamo a parlare di Genova Salernitana, prima però volevo dirvi che questo post partita è sponsorizzato dal succo di mela della ditta Simonini che è di Ponte in Valtellina, diciamo a Sondio, provincia di Sondio, un succo di mela fatto praticamente in casa da loro, buonissimo, poi vi metterò il link anche sotto nella descrizione Se vi interessa comprarlo è un ottimo prodotto. Passiamo invece alle cose serie, alle cose più impellenti cioè commentare questa partita. Allora, a prescindere che secondo me oggi anche in caso di vittoria forse sarebbe servito a poco per la salvezza e io sono ancora convinto, l'ho detto anche a Mario prima in live, che il Gena finirà il campionato con 25, 24, 25 punti, non di più. Se andiamo a analizzare questa partita, andiamo a analizzare una partita dove il Gena nel primo tempo, nei primi 20 minuti ci ha provato, ha avuto un po' di sfortuna, poi è arrivato il gol di Mattia al 35, 37, giù di là. Poi hai avuto altre due occasioni, una con Efti e una di nuovo con destro per raddoppiare e su quelle occasioni di destro la sorella interna va in contropria dal 47esimo e ti prendi un gol. L'1-1 dove forse c'era un fallo su Efti da parte di Dürich, non ho più rivisto il replay, mi sembrava abbastanza un fallo gratuito, nel senso che Dürich saltando per mettere la palla in mezzo a Bonazzoli ha allargato il braccio e praticamente bloccato Efti. Non si è più rivista l'azione, a me mi sembrava fallo, però va bene. 1-1 Salernitana, così negli spogliatoi, quando Salernitana tra l'altro stava giocando peggio. Secondo tempo, secondo tempo secondo me è male tutte e due le squadre, direi che sono due squadre che meritano di retrocedere in Serie B. Una, il Gena non vince da settembre, in casa non ha mai vinto, c'è molta pochezza. Il mercato, se poi andiamo a vedere gli acquisti fatti nel mercato, continuiamo a vedere poi la squadra, sempre la vecchia squadra. Ecuba ha migliorato, una squadra sicuramente migliorata anche dal punto di vista mentale, però sempre la stessa squadra con sempre i stessi limiti. Limiti che riconoscevamo prima, li continuiamo a vedere adesso. Manca una punta che segni spesso, c'è Mattia va bene, ha segnato, ma c'è dei momenti che è isolato lassù, comunque non tiene palla, non ti fa salire la squadra. E Kuban, ottimo giocatore dal punto di vista di corsa, di temperamento, di presenza in campo, ma poi alla fine tecnicamente ha i suoi limiti, anche se oggi ha fatto un ottimo assist per il gol di Mattia, ma non è servito a niente. Era una partita che a fine primo tempo dovevi essere sul 2-0, o 3, per poi gestirla nel secondo tempo. Invece sei riuscito a farti pareggiare e andare in affanno. Abbiamo i soliti problemi a centrocampo, Badel ormai è un ex giocatore e si vede. Sturaro, sì, tanta grinta, ma tanta confusione anche. Perché la difesa, bene o male, ha retto, però poi i cambi non hanno servito a niente, non sono serviti a niente. Cambiaso è un'involuzione tecnica incredibile. Rovella, sì, poco e niente. E soprattutto Gudmundson, boh, dobbiamo vederlo, no? Non si può giudicare a un giocatore da questa partita. E piccoli, messo all'ottantesimo, non ho capito. Lì, veramente, questo non ho capito. Il cambio modulo al sessantesimo, quando è entrato Melegoni, che io continuo a non poterlo vedere, e Gudmundson è uscendo però destro, lasciando praticamente il Genna senza attaccanti, perché Yeboah e Gudmundson praticamente erano larghi, e Yeboah, scusate, Ekuban e Gudmundson praticamente giocavano larghi, e al centro non c'era nessuno davanti. Non so come, non l'ho capito, quella scelta lì, e se non neanche far entrare poi piccoli all'ottantesimo. O c'era, perché piccoli si stava già preparando prima del, durante, all'inizio del secondo tempo. O è successo qualche problema fisico anche a piccoli, come è successo ad Amiri. Non lo so, non lo so, non ho capito. Poi, vai, magari Blessing lo spiegherà negli spogliatoi. Che dire, ebbe inizio tutto qua, ebbe inizio qua la rincorsa del Genna per la Serie A contro la Salernitana, Genna 2, Salernitana 1, con l'ultimo gol di Dante Lopez, e ci ritroviamo qua a finire la Serie A, secondo me è finita la Serie A per il Genna, proprio contro la Salernitana. due squadre imbarazzanti, due squadre veramente con un tasso tecnico poco, poco tasso tecnico da tutte e due le parti, si vede ogni tanto qualche sprazzo di gioco, sia nel Genna che nella Salernitana, ma non... direi che se vinci una partita solo in campionato, nei pareggi 12, forse... diciamo che la Serie B la sei un po' meritata. Adesso, sì, è vero, il campionato è ancora lungo, sì, è vero, la matematica non ti fa retrocedere ancora, ma se ne hai vinta una, ripeto, partita da qui dall'inizio ad oggi, non penso che adesso ne vai a vincere 4-5 di fila. Quindi, dovevi vincere oggi e dovevi vincere a Venezia per provare a giocarti la salvezza. Oggi è pereggiato col Venezia a Venezia, non so cosa succederà, perché secondo me questa partita, sotto il punto di vista del morale, se da Roma siamo usciti con un morale altissimo, da qui usciamo con un morale bassissimo. In questione arbitro, sì, perché c'era rigore su Mattia, cioè è impossibile non vederlo, è impossibile che il VAR non l'abbia visto, mi devono spiegare, ma è da inizio anno, devono spiegare a cosa serve il VAR, se poi decide o non decide. È un arbitro che con noi ci ha sempre dato contro, lo sappiamo, però non possiamo appellarci all'arbitro se non riusciamo a battere la Saranetana, perché se a fine primo tempo è di 2-0, rigore o non rigore quello di destro, sottoporta non la vediamo, la vediamo poco, diciamo. O lo segna a destro o non segna nessuno, i centrocampisti non ci danno, porta nuova, sottoporta, un giocatore che sta facendo molto bene, ma veramente sottoporta è una difficoltà incredibile. Quindi niente, diciamo che forse oggi salutiamo la Serie A, non matematicamente, ma forse con la testa probabilmente sì, e niente, adesso Venezia-Genoa, altra partita delicata, dove quel piccolo dilumicino di speranze potrebbero definitivamente finire lì a Venezia. Altra partita, è altra squadra che ci dà dei fasti ricordi, dei bruttissimi ricordi, e quindi niente, ci vediamo la prossima, speriamo un video migliore, ma è da inizio anno che non riusciamo a portare a casa tre punti, quindi ormai ci siamo quasi rassegnati a non vincere più. Quindi niente, ci sentiamo, ci sentiamo, barra vediamo la prossima settimana e vediamo come andrà. Ciao a tutti da Trattoria Sportiva, alla prossima!